Pasca! Se ha le squame noi lo vendiamo! Avvicinati! Pesce fresco, ho pescato questa stessa mattina nel fiume grande! Il pesce di Strunkler è squisito e costa poco! Il mio mancone non sarà pulito quanto il sederino di un bebè elfo, ma almeno qui trovi la migliore birra di ferro! Il mio mancone è un po' di più! Il mio mancone non sarà pulito! Tutti pronti! Credi che voglio perdere tempo chiacchierando con te? Soapstone ha sempre una buona parola o due per i suoi clienti! Perché non vai a infastidire lui? Mi piacerebbe tornare indietro... ...e dare una bella lezione a quei tizi! ... ... Cosa vuoi? Niente vero? Ehi, aspetta! Ho sentito che mi stavi cercando. Cos'è di così urgente da non poter aspettare? Allo? Ehi, aspetta! Ehi, aspetta! Ehi, aspetta! Oh, cosa c'è di così emozionante? Chiedermi qualcosa? Di cosa si tratta? Di me? Stai chiedendo troppo? Ma solo perché sei tu che questa volta mi parlo. Durante la mia gioventù visitai molti luoghi e mi sentivi a casa mia in diverse parti del Regno Medio. Ho visitato almeno una volta quasi tutte le città tra Avina e Pernic. La mia conoscenza dei luoghi mi permise di guadagnarmi la vita come messaggera ed esploratrice. E così, per caso, sono arrivata a Pernic. È la città che preferisco. Nonostante gli strani eventi degli ultimi anni, non la cambierei per un altro posto del Regno Medio. Chi avrebbe mai pensato che il vecchio caro Ardo avrebbe scelto questo posto tra tutti? Forse persa il fondo secolo, in modo che potessi vederlo di nuovo. Per esempio, in modo che potessi vederlo di nuovo. No, 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 no. Cosa ci fai nel mio scantinato? No, 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 no. No, 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 no. Salve, mia piccola bambina. Come stai? Che carino da parte tua venire a trovare il tuo vecchio paparino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, è per me.